La Gelbison dopo il vittorioso derby con il Savoia di Campilongo incontra la Sarnese già battuta in Coppa Italia. Nel girone delle lunghe trasferte in Sardegna i Vallesi si giocano il bonus presto presto nella stessa provincia. I Granata già affrontati in Coppa Italia e battuti con un gol di Prado sono comunque un ostacolo di tutto rispetto. E la seconda trasferta per i Cilentani, la prima è stata sul campo del Terracina, squadra che domenica scorsa ha affrontato proprio la formazione di Agovino impegnata con la Gelbison domenica prossima. Il punteggio è stato di 1-1. La convincente prova contro il Savoia di Campolongo invita all'ottimismo, ma sul campo della Sarnese le difficoltà che si presentano sono notevoli, ma superabili. Agovino gioca con il suo tradizionale 4-3-3. Vedremo quale sarà il modulo che Galderì si contrapporrà e solitamente il tecnico salernitano è versatile, per cui top secret sullo schieramento. Intanto la Gelbison ha messo a segno un altro colpo, Aniello Salzano. Il centrocampista classe 1991 arriva da San Giuliano City. Cresciuto nel settore giovanile dell'Unio Quinto Treviso, Salzano ha collezionato quasi 100 presenze in Serie B, indossando le maglie di Ternana, Livorno, Bari e Crotone. Con la squadra calabrese ha vinto il campionato cadetto, riuscendo anche a debuttare in Serie A nella stagione 2016-2017. Aperta la prevendita dei taglianti per la gara contro la Sarnese, la società ospite mette a disposizione 870 biglietti.